Ciao, io mi chiamo Giovanni. Tu non mi conosci perché quando vieni in ospedale il dottore ti visita e poi torni a casa, magari con un bel gelato come premio che la mamma ti compra nel tragetto di ritorno. Io faccio ricerca su una brutta malattia che i dottori chiamano neuroblastoma. Il nostro corpo è fatto di cellule, che sono come delle piccole persone che con il loro lavoro ci aiutano a funzionare. Grazie a loro noi possiamo mangiare, possiamo correre, possiamo ridere e così via. Alcune volte però alcune di queste cellule non si comportano tanto bene e disturbano le altre cellule brave nel loro lavoro. I dottori per poter arrestare queste cellule cattive hanno bisogno di un loro identikit. Quello che faccio io è un po' come il lavoro di un detective. Vado in cerca dell'impronta digitale di queste cellule cattive. In questo modo spero che in futuro meno bambini possano stare male.